in questa video lezione è contenuta una lunga serie di frasi scritte in italiano e che tu dovrai tradurre in tedesco buon divertimento l'uomo è coraggioso la bicicletta è un veicolo ecologico la bicicletta è un veicolo ecologico das Fahrrad ist ein kologisches Fahrzeug das Fahrrad ist ein kologisches Fahrzeug Brigitte gioca con la bambola Brigitte gioca con la bambola Brigitte spiele mit den Puppe Il tavolo e la sedia Il tavolo e la sedia Der Tisch und der Stuhl Un elefante è grande Un elefante è grande Un elefante è grande Un elefante è grande Faccio del mio meglio Faccio del mio meglio Ich mache mein bestes Ich mache mein bestes I rami dell'albero sono lunghi I rami dell'albero sono lunghi Die zweige des baumes sind lang Die zweige des baumes sind lang Il piatto e il bicchiere Il piatto e il bicchiere Dea Tella und das Glas Dea Tella und das Glas Questo è fantastico Questo è fantastico Das ist toll Das ist toll Un topo è piccolo Un topo è piccolo Una maus ist klein Il blu è il mio colore preferito Blau è il mio colore preferito Blau è il mio colore preferito Blau è il mio colore preferito È ora di andare a casa È ora di andare a casa. Zeit, nach Hause zu gehen. Ciao. Piacere di conoscerti. Ciao. Piacere di conoscerti. Hallo. Dich kennenzulernen. Ho 23 anni. Ho 23 anni. Ich bin 23 Jahre alt. Lei viene domani mattina. Sie kommt morgen Vormittag. Sie kommt morgen Vormittag. Sie kommt morgen Vormittag. Sie kommt morgen Vormittag. Sie kommen morgen Vormittag.